Più di mille visitatori dal giorno dell'apertura, in poco meno di tre settimane, a cui vanno aggiunti i biglietti d'ingresso delle scolaresche. Sono questi i numeri del successo della mostra Biodiversità e gestione faunistica nelle Marche, che è in corso presso il chiostro di San Domenico a San Severino Marche. L'esposizione, che ha il patrocinio anche di regione e provincia, resterà aperta fino al prossimo 31 gennaio. In questo periodo sono moltissime le scolaresche che decidono di regalarsi un vero e proprio viaggio nel mondo degli animali che abitano i nostri boschi, ma anche stagni, laghi e altri habitat naturali del territorio marchigiano in un solo. Fra i tanti esemplari mostra anche un reperto di proprietà dell'amministrazione provinciale di Venezia. Si tratta di un'aquila reale adulta, data in affidamento al Museo Civico di Historia Naturale di Jesolo, a seguito di un importante intervento che ne ha permesso il suo recupero a fronte di un complesso e delicato restauro. L'aquila reale presente alla mostra Biodiversità e gestione faunistica delle Marche è custodita all'interno dello spazio allestito dal 1515 del Corpo Forestale dello Stato, che nei giorni scorsi ha registrato la visita del comandante della locale stazione Maurizio Simoncini e del presidente dell'ATC Macerata 1 Franco Lardelli. L'esposizione sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato alla domenica e i giorni festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per visite guidate e per i tour dedicati alle scuole è necessaria la prenotazione al Centro di Educazione Ambientale.